Ciao a tutti, oggi prepareremo il caffè viennese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono panna vegetale zuccherata, cioccolato fondente, caffè espresso per decorare codette di cioccolato, cacao amaro, cialde e panna montata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Adesso lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 50 gradi, velocità 3. Intingiamo il bordo di due bicchierini con il cioccolato fuso e lasciamo il resto all'interno del boccale. E passiamo la superficie del bicchiere nelle godette di cioccolato facendo aderire bene. Aggiungiamo al cioccolato fondente il caffè e la panna e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Trasferiamo il composto nei bicchierini che abbiamo precedentemente decorato e decoriamo con panna montata, cialde e spolverizziamo con cacao amaro. Caffè viennese. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.